Benvenuti all'ascolto dei PodFastAMCO, la cardiologia basata sull'evidenza, rubrica di aggiornamento scientifico a cura dell'area giovani AMCO. In questa edizione dei PodFastAMCO riporto un articolo pubblicato sull'European Health Journal di maggio 2021, con titolo Clinical Characteristics and Prognosis of Patient with Microvascular Angina, primatore Iroaki Shimokawa. Il lavoro riporta i dati del primo studio clinico prospettico non randomizzato ed internazionale sull'angina microvascolare, condotto dal suo gruppo di studio europeo Covadis. La malattia coronarica microvascolare è una condizione patologica di rilievo sia per la sua prevalenza che per la spesa sanitaria ad essa associata, ad esempio per l'inquadramento diagnostico-terapeutico. Lo studio è incluso 686 pazienti arruolati dal 2015 al 2018, con la diagnosi di angina microvascolare secondo i criteri diagnostici stabiliti dallo stesso gruppo Covadis nel 2013. Presenza di sintomi di ischemia, ischemia inducibile documentata con test non invasivi quali l'ecostress, scintigrafia, risonanza magnetica cardiaca, assenza di patologia coronarica ostruttiva significativa, la stenosi veniva considerata significativa se maggiore del 50%, con test funzionali quali le CFR minore di 0.8. Evidenza di disfunzione microvascolare intesa come riduzione della riserva coronarica, un CFR minore di 2, o inducibilità di spasmo microvascolare, o aumento delle resistenze microvascolari, o presenza di fenomeno dello slow flow, definito come alla coronarografia un timi frame conto maggiore di 25, cioè il numero di frame richiesti per contrastare distalmente il vaso. La diagnosi di malattia coronarica microvascolare veniva considerata certa in presenza di 4 su 4 di questi criteri. Sospetta se presenti 3 su 4. L'endpoint primario dello studio è l'incidenza dei MIS nei 36 mesi di follow-up. Nei MIS venivano inclusi morte per cause cardiovascolari, infarto, stroke e ricovero per scompenso cardiaco. Per quanto riguarda le caratteristiche della popolazione arrolata, il numero di donne incluse nello studio era quasi il doppio rispetto agli uomini. La popolazione di pazienti arrolata includeva diverse etnie, con la maggioranza dei pazienti cacacici o asiatici giapponesi. Il 34% dei pazienti aveva una storia di malattia coronarica e nel 9% dei casi era stato sottoposta in precedenza rivascolarizzazione per cutanea. La prevalenza di angina ripositi di spanea era maggiore nella popolazione femminile rispetto alla popolazione maschile. Il 38%, ben 260 pazienti, aveva un test ad acetilcolina positivo per inducibilità di spasmo dei vasi epicardici. Questa osservazione fa supporre la possibile coesistenza di più meccanismi alla base dell'ischemia. I farmaci impiegati nei pazienti con diagnosi di angina microvascolare comprendono nitrati, calcio antagonisti, petabloccanti, acini iblitori, sartani. Per quel che riguarda l'endpoint primario, l'incidenza annua nei mesi in tutta la corte di pazienti è risultata pari al 7,7%. L'incidenza di ricovero per angina instabile pari al 5,9%. Il tasso di morte cardiovascolare pari all'1%. Non è stata osservata una differenza statisticamente significativa nell'incidenza dei mesi nei due generi. È stata invece osservata una differenza statisticamente significativa nell'incidenza dei mesi nelle differenti etnie con un tasso di mesi maggiore tra i cacosici rispetto agli asiatici. Infine è stato condotto un'analisi multivariata per valutare quali erano fattori che aumentavano il rischio di mesi. Si è osservato che l'ipertensione arteriosa ed una precedente storia di CAD era predittore indipendente di angina microvascolare. È stato inoltre osservato che nella popolazione femminile l'angina microvascolare ha maggior impatto sulla qualità della vita. Infatti utilizzando il questionario di Seattle sull'angina è stato osservato uno scorro mediamente più basso tra le donne ed in questa popolazione è stato anche riportato un maggiore utilizzo di nitrati proprio per la maggiore ricorrenza degli eventi anginosi. In conclusione questo studio ha confermato che l'angina microvascolare si osserva più di frequente nella popolazione femminile rispetto alla popolazione maschile. Che tra i due sessi non vi è una differenza in termini prognostici. Nonostante la prognosi simile nei due sessi la qualità di vita riportata dalle donne con angina microvascolare è peggiore di quella degli uomini. Questa differenza potrebbe essere spiegata non solo da un differente meccanismo fisiopatologico alla base dell'angina ma anche dal ruolo che gli ormoni sessuali sembrano avere nella percezione del dolore. La prognosi più sfavorevole osservata nella popolazione casica è invece ascrivibile alla maggiore prevalenza di fattori di rischio cardiovascolare in questa popolazione. L'approccio terapeutico rimane una delle principali questioni aperte nella gestione dell'angina microvascolare. D'altro canto nei pazienti con angina microvascolare i fattori di rischio cardiovascolare hanno una prevalenza non trascurabile e di per sé rappresentano importanti target terapeutici. Attualmente sono in corso studi clinici mirati a testare l'efficacia di una terapia terrorida sul meccanismo fisiopatologico dell'angina microvascolare. Grazie a tutti per l'attenzione e non perdete il prossimo episodio dei podcast dell'AMCO.